A Franca Di Crocco, responsabile della distribuzione e retail di Credit Suisse Asset Management, domandiamo quali sono le strategie in Italia in questo momento della società elvetica. Sì, Credit Suisse Asset Management, come sapete, è presente sul mercato italiano dal 1999. Abbiamo sempre focalizzato la nostra attenzione sul mercato istituzionale e negli ultimi mesi, negli ultimi anni, c'è stato uno sforzo da parte della nostra azienda nel voler incominciare e sviluppare un nuovo ruolo anche nel mercato retail. In un mercato colmo di competitor, come è il mercato italiano del risparmio gestito, come pensate di caratterizzarvi e di vincere quindi una concorrenza che è agguerrita? Sicuramente c'è molta competitività tra i vari player. Dal nostro punto di vista l'ideale sarebbe quello di individuare due, tre, quattro soluzioni di investimento magari decorrelate rispetto a quelle che sono presenti oggi sul mercato e quindi cercare di essere riconosciuti per queste quattro soluzioni di investimento. Mi riferisco a soluzioni di investimento non tipicamente tradizionali, quindi stiamo cercando di puntare e sviluppare l'innovazione di prodotto per quanto riguarda prodotti alternativi, prodotti che si sganciano dalle classiche logiche di mercato e quindi vanno a riempire quella componente di portafoglio che al momento oggi è occupata da quella parte obbligazionaria tradizionale e che probabilmente nei prossimi mesi e anni, visti appunto i tassi molto bassi, difficilmente potrà produrre un rendimento tipico di quello che è stato appunto il rendimento delle obbligazioni negli ultimi 5-10 anni. Grazie di Crocco e auguri per la sua attività nei prossimi mesi. Grazie.